Il porto di Barletta intraprende ufficialmente la strada che la condurrà verso una valorizzazione attesa da anni. L'ufficio gare e contratti dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico Meridionale ha avviato un affidamento temporaneo per i lavori di manutenzione dei fondali del porto barlettano. Un appalto che porterà ad un dragaggio manutentivo sino al raggiungimento di una profondità di 8 metri che permetterà a più imbarcazioni l'ingresso a pieno carico nel porto garantendo sicurezza anche a navi da 10.000 tonnellate. L'intervento si estenderà in 9,2 ettari in cui è previsto il dragaggio di un volume di solo sedimento di circa 84.000 metri cubi. Se ne è parlato questa mattina presso la Lega Navale di Barletta alla presenza del presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, il quale si è detto soddisfatto per un lavoro che ha seguito sin dal suo insediamento. L'abbiamo portato avanti e siamo arrivati all'aggiudicazione. Ora devono partire i lavori e il porto diventerà, come si dice, tecnicamente più accessibile, quindi può trarre nuovi e più interessanti e più redditizi traffici per la collettività. Oltre 4 milioni di euro l'importo a base d'asta dell'affidamento. I lavori si articoleranno in più fasi, 90 giorni per la bonifica bellica preventiva, circa 8 mesi per l'escavo vero e proprio, operazioni che durante la stagione estiva verranno sospese in ottemperanza alle disposizioni di tutela ambientale. Anche per questo è ancora difficile fare una stima dei tempi. I tempi purtroppo non sono immediati. Questo è un appalto che prevederà circa un anno di lavori e chiaramente ci sono delle fasi propedeutiche, c'è la cosiddetta fase della Bob, che è la bonifica degli ordini bellici, che andrà fatta acquisendo tutta una serie di pareri da parte dell'autorità marittima, competente, della marina militare. Però superata questa fase potrà partire il dragaggio vero e proprio. I lavori sono stati aggiudicati all'associazione temporanea di imprese composta dalla capogruppo Nuova Oceanus Orca di Trani e dalla mandante impresa Lavori Marittimi Ancona. Soddisfatto anche Giuseppe Gamarrota, presidente della Lega Navale di Barletta, un primo passo per rivalutare uno dei porti più antichi del territorio. Una prima fase, l'inizio di un progetto ben più ambizioso, che prevede il dragaggio dell'intera area portuale, speriamo si possa fare, e soprattutto della valorizzazione del nostro porto anche in termini turistici. Laddove noi qui alla Lega Navale siamo già pronti e ci siamo attrezzati per poter ospitare tutti i naviganti che trassidano dalla nostra città.